Musica Primo brindisi in campionato per il Taranto che allo Iacovone batte 2 a 1 il Bitonto, la terza schiera alla stessa squadra di sette giorni prima, unica eccezione a quadro sulla tre quarti dall'inizio. Per Guaita squalificato si rivelerà la mossa vincente, immutato l'impianto tattico 4-2-3-1 con Marsili e Matute in cabina di regia, il giovane Serafino ha il terminale offensivo, il Bitonto è 4-3-3, Capece fa il playmaker, Genkiex di turno atteso parte dalla panchina, spalti deserti, gara a porte chiuse dopo un tentativo di Lattanzio dalla lunga distanza senza successo il Taranto passa in vantaggio, a quadro sradica il pallone dei piedi di Capece, serve Serafino. Il giovane attaccante 2001 salta Figliola che lo stende, calcio di rigore giallo per l'estremo difensore ospite, dal dischetto l'Agzir non sbaglia e realizza l'1-0. Il Taranto non segnava sul rigore allo Iacovone dal 16 settembre del 2019. La gara è frizzante, gli uomini della terza ci mettono grinta e intensità, il Bitonto appare in difficoltà e non crea mai problemi alla porta di Sposito. C'è solo un brivido quando Lattanzio serve un pallone in aria che attraversa tutto lo specchio senza nessuna deviazione. Al 26esimo l'Agzir sfiora l'incrocio dei pali sul calcio piazzato, sette minuti più tardi incursione in area avversaria di Caldore, ma è provvidenziale il piattone di Petta che spazza. Nel finale di tempo il copione non cambia. Prima del riposo c'è un tentativo di a quadro, di testa nel cuore dell'area bitontina senza successo. E allo scadere ancora l'Agzir prova la conclusione a giro ma è impreciso. Nella ripresa la gara sembra andare in archivio quando su un cross dalla sinistra di Sant'Erpia Diop tocca con un braccio. Fallo evidente, nessuna protesta, c'è anche il giallo. Dagli 11 metri ancora l'Agzir non sbaglia e sigla così la sua personale doppietta. Il 2-0 sembra essere una sentenza per gli uomini di ragno, squalificato, sostituito in panchina da Anaclerio. E invece in sei minuti la partita torna in vita. Caldore commette fallo su Capece sulla tre quarti nel gioco aereo. Sulla punizione che ne segue, Sirri sfodera un sinistro da Cineteca che riapre il match e regala al Bitonto le energie giuste per provare a riprendere il risultato. Il Taranto arretra e soffre ma riesce a creare apprezzione alla retroguardia bitontina quando al 25esimo l'Agzir lavora un gran pallone per la testa di a quadro, sempre lui, che sottoporta, spedisce di poco alto. Il risultato non cambia, nonostante i cinque minuti di recupero, da segnalare l'esordio dell'argentino. Straqua Lursi al 31esimo del secondo tempo, generoso ma ancora non al meglio della condizione atletica. Per il rosso-blu tre punti che fanno classifica ma soprattutto morale. Per il Bitonto, seconda sconfitta consecutiva. Per il risultato non cambia, non cambia, non cambia.